Ama mi occado, 12-15 di gennaio, Teatro Verdi di Milano, uno spettacolo all'interno della rassegna Tolkien Menotti, scritto e diretto da Giovanna Mori, una produzione appunto del Teatro Menotti, in scena ci sono io. Sono Rosa, una donna innamorata che racconta una storia molto vera, la storia di una giornata particolare. Venite a vedermi, 12-15 di gennaio, tra pochissimi giorni, Teatro Verdi Milano.